Chiuso un anno ricco di novità e soddisfazioni, la ASL Roma 4 si prepara ad un 2024 ricco di nuove sfide. Se il 2023 è stato l'anno del nuovo reparto di medicina d'urgenza e del blocco operatorio del San Paolo, del restyling del punto vaccinale di Piazza Verdi, dell'avvio dei lavori della centrale operativa di Viale Lazio e del proseguimento dei cantieri dell'ospedale cittadino, oltre ad una serie innumerevoli di iniziative di prossimità, l'anno che sta per entrare avrà come priorità la ristrutturazione del pronto soccorso attraverso una ridistribuzione ed un ampliamento degli spazi. A spiegarlo è la direttrice generale dell'ASL Roma 4, Cristina Matranga, che traccia un bilancio del 2023 e fissa gli obiettivi a breve e a lungo termine. Abbiamo lavorato molto e fatto tanto, afferma la DG, ma abbiamo ancora tanto da fare. Per il 2024 la priorità deve essere il pronto soccorso, insieme ovviamente al proseguimento degli altri cantieri del San Paolo su tutti, quello di ostetricia e ginecologia per migliorare ulteriormente il punto nascita che ha fatto già registrare un ottimo più 12% rispetto al 2022. Nei prossimi 5 anni l'azienda sanitaria locale gestirà circa 40 milioni di euro messi a disposizione dal PNRR e dal PNC, il Piano Nazionale Complementare. Abbiamo idee chiarissime sul loro utilizzo, visto che la maggior parte dei progetti sono già partiti o comunque hanno progetti esecutivi. Si lavora sulle centrali operative del territorio, una delle quali sarà prevista per il distretto 1 in uno stabile di Viale Lazio, sulle case e gli ospedali di continuità, come quello previsto a Santa Marinella. Nel nuovo anno bisognerà anche dare seguito al nuovo indirizzo della Giunta regionale, che ha previsto al San Paolo un'unità operativa di neurologia, su cui l'ASL Roma 4 sta preparando un piano di assunzioni per medici e personale infermieristico. Inoltre l'azienda sanitaria locale aspetta novità per il progetto più atteso, quello della radioterapia. Arrivato all'ok della Regione Lazio, si aspetta il via libera del Ministero della Salute. Vorrei metterlo tra i progetti del 2024, continua Matranga, ma sono realista e mi rendo conto che quei finanziamenti hanno tempi più lunghi. aspettiamo la validazione del Ministero, dopodiché abbiamo tutto pronto, con tempi e lavori già stabiliti. Siamo fiduciosi!